Ciao a tutti, in questo video voglio presentare una poesia di Hermann S, Frammenti. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, iscriviti al nuovo canale, felicità e benessere, di cui ti posto il link in descrizione. E veniamo alla poesia di Hermann S, Frammenti. Ma la cosa migliore non furono quei baci e neppure le passeggiate serali o i nostri segreti. La cosa migliore era la forza che quell'amore mi dava, La forza lieta di vivere è di lottare per lei, di camminare sull'acqua e sul fuoco, potersi buttare per un istante, poter sacrificare gli anni per il sorriso di una donna. Questa sì che è la felicità e io non l'ho perduta. Bene, molto bella questa poesia dove, secondo Hermann S, l'amore è dedicarsi completamente a un'altra persona sacrificandosi anche da un certo punto di vista. Io non sono completamente d'accordo su questa versione, comunque la poesia è molto bella. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti! Grazie! Grazie!